Ehi tu! Vuoi imparare a programmare per lavoro, per studio o per passione ma non hai ancora nessuna esperienza con i linguaggi di programmazione? Oppure hai già provato qualche linguaggio ma non conosci ancora il Python? In entrambi i casi questo corso fa per te. Python è probabilmente il miglior linguaggio da imparare al giorno d'oggi e sei fortunato perché questa è la prima lezione di questo corso. In questa prima lezione ti dirò la prima cosa da fare per iniziare subito a giocare, studiare, sperimentare con un linguaggio di programmazione, in questo caso il Python, che è una figata, infatti lo usano tutti, dagli hobbisti a gli scienziati. La prima cosa da fare è installare un ambiente di sviluppo, quindi dirigiti subito al sito python.org. Clicca qui sulla voce download e poi clicca questo bellissimo tastone giallo con scritto download python, è la versione, che oggi che sto registrando questo video, in questa bellissima serata d'aprile 2019, è la 3.7.3. Ma quando tu guardare il video magari ci sarà la 3.7.4, 3.8 eccetera. Quando termini il download avvia il file scaricato e partirà l'installazione. Puoi tranquillamente lasciare le opzioni predefinite, se hai qualche problema o dubbio scrivimelo qua sotto nei commenti. Una volta che Python sarà installato nel tuo computer, sei fottuto. No, scherzo, apri il suo ambiente di sviluppo predefinito, che si chiama Idle. Lo trovi in tutti i programmi Python Idle, o facendo una semplice ricerca, così. Idle. Benissimo, ora sei pronto per iniziare a divertirti col Python. Prima di terminare ti faccio vedere un attimo come funziona Idle. È molto semplice, scrivi i tuoi comandi e Python, il tuo schiavetto, li esegue immediatamente. Ad esempio, stampiamo una frase a schermo, scrivendo print, aperta tonda, e tra virgolette una stringa di testo, ad esempio, ciao mondo. Chiuse virgolette, chiusa parentesi. Ora, non preoccuparti se conosci i comandi che ti faccio vedere, te li illustrerò dettagliatissimamente nelle prossime lezioni. Ora voglio solo farti vedere come funge Idle. Premiamo invio e bam! Come vedi il messaggio viene stampato. Posso anche creare delle variabili, non preoccuparti, anche delle variabili parleremo nelle prossime lezioni. Ad esempio, la variabile a è uguale a 5. Invio. La variabile b è uguale a 2. Invio. La variabile c è uguale ad a più b. Invio. E adesso stampiamo la variabile c, facendo print, aperta tonda, c. Premiamo invio e stampa 7, perché 5 più 2 fa 7. I comandi possiamo scriverli così, in questa finestra, che è la shell. Eh, tranquilli, non puzza. Ma ha senso solo se vogliamo testare dei codici rapidamente. È molto più ordinato e comodo scriverli in un file, che puoi anche salvare sul PC. Inviarlo, modificarlo, ed è proprio quello che faremo nelle prossime lezioni. Basta fare File, New File, e possiamo scrivere i nostri bellissimi comandi in questo file. Print Ciao Mordor, A uguale 5, B uguale 3, C uguale A meno B, Print C. Per eseguirli basta premere F5, oppure andare qui su Run, Run Module. Dobbiamo salvare il file, ok, salvalo dove vuoi. Ecco qua, ha stampato Ciao Mordor. È il risultato della sottrazione. 5 meno 4 fa 2. Ora, non pensare che gli scienziati usino il Python per stampare frasi stupide, fare somme e sottrazioni. Nei prossimi video inizieremo a conoscere i principali elementi del Python, alcuni li hai appena visti, e a capire cosa possiamo combinare con questo splendido linguaggio di programmazione. Lascia un like se il video è stato utile, lascia un commento con i tuoi consigli e pareri, e iscriviti al canale cliccando anche la campanella per rimanere sempre aggiornato sul mondo tech e sulla programmazione. Buona giornata o serata o mattinata, ci vediamo al prossimo video. Buona programmazione!